Chiudo la domanda dall'audience, ovviamente che è un po' una domanda che abbiamo già discusso insieme, che è più ampio il tema del merito. Il ragionamento più grande, forse sotteso, è quello che per esempio io che sono felice marito di una persona molto più importante di quello che faccio io, quindi lo dichiaro pubblicamente, e quando lei partecipa o quando ascolta questo dice, signori, ma basta, ma parliamo di merito. Cioè cambiamo il paradigma e riportiamo al centro il concetto del merito nel paese seriamente, in particolare dove il merito è appiattito. E il merito in particolar modo è appiattito nella pubblica amministrazione centrale e locale. Allora, la domanda per te Paola è come si può fare a fare più merito nel paese? Come si può incentivare lo sviluppo del merito del paese? Domandina così. Grazie per l'opportunità. Allora, domanda che richiede una risposta complessa e secondo me non solo una, quindi io provo a prenderla da un angolo, poi magari... I nostri compagni di viaggio... Mi farebbe piacere, se facciamo un po' veloce, professoressa Asciuto, Ignazio e poi chiude Cristina su questo. Allora, c'è un tema sicuramente, ci sono almeno due direttrici, uno il tema della cultura del paese e l'altro il tema dei processi, di trasparenza e di equità. Vi confesso che vengo da una conversazione interna all'azienda questa mattina anche su questo, perché per esempio tutto il tema della talent review, prendiamo un tema aziendale e mettiamolo nella pubblica amministrazione. Pensiamo alle riunioni che molti di voi conoscono, in cui ci sediamo insieme, parliamo dei team e della talent review. Vi assicuro che io ho assistito a conversazioni in assoluta buona fede, dove però alla donna manca sempre qualcosa. Deve dimostrare sempre qualcosina in più, non siamo sicuri che... E questo lo sento ogni anno, no? Allora, il tema del merito presuppone che noi ritorniamo indietro e ripensiamo ai criteri che utilizziamo, cioè il setaccio che noi dobbiamo usare, utilizzare per leggere il merito richiede una cultura dell'inclusione. Perché? Perché lo stereotipo di qual è il bravo leader nel nostro paese coincide, coincide, e qui non lo dice Paola, lo dicono fior di studi, coincide con il maschio. Quindi il bravo leader e gli stereotipi che associamo al bravo leader, nella maggior parte dei casi, inconsapevolmente, sono riconducibili all'uomo ideale, non alla donna ideale. Quindi merito sì, ma allora dobbiamo essere disponibili a rimetterci in discussione, nel mondo pubblico e nel mondo privato, a ripensare quali sono i criteri che utilizziamo per definire questo merito. Altrimenti creeremo delle donne mostro, donne che per farcela, no? Cercheranno di omologarsi al modello. Quindi questo è il mio pezzetto. Poi sicuramente ci sono tantissimi angoli da più leggerlo. Aggiungo su questo, è interessante perché si promuove sulla prestazione o sul potenziale? Allora mi domando, ma quando noi promuovamo tanti uomini in passato, erano tutti già pronti? O gli avevamo fiducia sul potenziale? Questa è una buona domanda, no? Perché a un certo punto io devo rischiare, quindi devo promuovere sul potenziale. Se non rispetta tutti i criteri, ma non l'ha mai fatto, come fa a rispettare tutti i criteri, no? Anche se penso sul tema dei CEO donna in Italia, a parte c'è un problema di pipeline abbastanza evidente, ma poi c'è un tema di provare. Professoressa, il suo punto di vista, perché insomma poi vengo a casa sua, quindi la casa del merito, no? Quindi io mi metto in ascolto, però mi interessa il suo punto di vista, è molto importante. Prego. Allora, dal punto di vista degli studenti, diciamo che noi non abbiamo un tema di differenziazione del merito tra maschi e femmine. Devo dire che francamente io non l'ho avuto, ma... Cioè i suoi professori non hanno qualche bias, secondo lei? Ma allora, diciamo, i bias ci sono, secondo me ci sono sempre, perché ce la diamo tutti, quindi questo... Però molti esami sono scritti, molti sono... Cioè, comunque è abbastanza... Non riceviamo, perché abbiamo anche tutto un sistema di segnalazione da parte degli studenti, da parte del sistema, proprio per garantire questa equità, questo controllo su tante possibili dimensioni. E non è un tema che emerge, emerge in casi molto specifici. A volte c'è stato più, per esempio, più un tema quasi di razzismo rispetto a studenti internazionali, non considerati all'altezza, più che un tema maschi e femmine. Qualche vecchio docente che ha avuto questo problema c'è su questo, non c'è dubbio, ma diciamo che vanno in pensione, per fortuna, perché purtroppo non li possiamo cacciare nella pubblica amministrazione, quindi fino a 70 anni ce li teniamo. E questo, mi scusi, secondo me questo è un altro tema, eh? Non li possiamo cacciare. Perché? Cioè, no, adesso riflettiamo sul meccanismo. Cioè, perché io ho questa asimmetria tra il privato e il pubblico? Non posso cacciare un dirigente pubblico? Non posso cacciare un professore? Non posso... Perché ho una professoressa? Perché? Cioè, no? Questo è interessante, secondo me. Se mi consente, sempre nel dibattito, no? Perché... Dall'altra parte non li posso neanche premiare, perché c'è una doppia dimensione. E questo è negativo. Io sono assolutamente d'accordo. Ma il sistema, per come è fatto oggi, non consente né di dire che se hai delle pessime prestazioni te ne devi andare, né, questo vale sia per i docenti che per il personale tecnico-amministrativo, né il fatto di dire differenzio lo stipendio sulla base delle tue prestazioni. Nei docenti è impossibile, nel personale tecnico-amministrativo, con degli artifici, con una serie di meccanismi che abbiamo messo in piedi, un po' siamo riusciti a farlo. Ma di base il sistema non facilita certamente questo tipo di operazioni. Quindi questo è un vero tema, perché se scegli... Ed è qui il problema, perché se tu scegli male sei finito. Perché se tu scegli male il professore, anche all'inizio, poi magari non fa carriera, ma te lo tieni per 40 anni. Cioè, o fa qualcosa per cui vai in galera e allora forse riesco a cacciarlo, ma altrimenti è impossibile. Non c'è modo veramente. Potrebbe essere una battaglia da aprire. La ringrazio tanto. Innazio, il tuo punto di vista, poi gli imprenditori, per definizione, si misurano col merito del mercato e dei clienti e della crescita. Qual è il tuo punto di vista su questo? Il mio punto di vista è che non mi è quasi mai capitato, non mi è capitato di che ci fossero posizioni per le quali non si trovano donne con competenze o con merito. È abbastanza impossibile che questo avvenga. Quello che succede è che per certe posizioni trovare l'offerta di donne, statisticamente l'offerta di donne con determinate competenze è inferiore a quella che ci può essere di popolazione di uomini. Quindi, per esempio, faccio l'esempio senza fare il nome, di una grande azienda che ha imposto un vincolo molto rigido del 50% di popolazione femminile sul team di data science. È riuscita perfettamente a creare questo team, è oltretutto un team fortissimo, con alcune persone veramente capaci, però la persona che guida questo team mi ha detto che è stato lunghissimo, è stato estremamente faticoso, perché aggiungendo questo vincolo al processo di reclutamento si riesce a comunque ottenere risultati, ma ci è voluto tantissimo tempo. Quindi è una cosa che io penso sia totalmente sbagliato dire che in certe posizioni non si possano trovare donne. È corretto dire che oggi come oggi, finché non cambiamo quei fattori di base, l'offerta di candidati donne è oggettivamente più bassa. Credo anche che quello che diceva Paola, se spero che possa dare, usare il tu, sia profondamente vero. Io penso che noi siamo pieni di bias nel pensare a certi candidati che derivano proprio da, a mio avviso, da quel ruolo storico nella famiglia. Esempio tipico è c'è un bias fortissimo a favore di chi è capace di concentrarsi su una cosa scordandosi di tutto il resto. Penso che chiunque di noi ha visto questo bias. Fai una cosa importantissima, quindi bisogna una persona che possa per 12 mesi fare giorno e notte solo questo, dimenticando la famiglia, dimenticando la famiglia, dimenticando tutto. Questo è un tipico, proprio un bias figlio del nostro modo di concepire la famiglia, che in altri paesi è stato abbandonato da tempo, per cui viene vista semmai come una cosa negativa il fatto di essere un po' così pervertiti, monocordi e concentrati sul suo obiettivo. Un altro tipo di bias di essere maschile a mio avviso è una persona energica, capace di far prevalere la sua opinione o avere delle opinioni molto forti. In realtà è una cosa nella composizione di una squadra negativa, più che positiva, però viene anche quella dal fatto di... A mio avviso queste cose cambiano nel momento in cui cambia un po' il modo di crescere delle persone. Come si è detto, a 18 anni uno arriva già con dei modelli, con degli stereotipi molto formati, per cui io sono molto più... Mi entusiasmo molto di più a quelle iniziative che magari un po' più complicate ma che portano un cambiamento profondo nel modo di concepire proprio i ruoli all'interno della famiglia, all'interno della società, se vogliamo. Condivido, aggiungo un piccolo pensiero, il modello di leadership che anche esce dalla gestione della pandemia è quello di una leadership empatica e inclusiva, trasformazionale. Cioè, lo stiamo vedendo, cioè le aziende che stanno tenendo e che terranno e che rimbalzeranno sono quelle che hanno istituito dentro a qualunque livello questa tipologia di leadership. La leadership non è solo il capo azienda, la leadership è di chi gestisce una persona, di chi gestisce un cliente, cioè questa leadership fa il cambiamento e produrrà la differenza tra aziende che andranno bene e aziende che andranno male. Mi domando quanto ce ne sia per esempio nel settore pubblico, mi domando quanto accettiamo nella famiglia di crescere, di coltivare questa che nasce anche da un comportamento è quello della curiosità, della positività, del lavoro di squadra, altri temi. Cristina, la tua ultima pennellata poi, diciamo, ringraziando la professoressa Sciuto innanzitutto, poi Paola Mascaro, Ignazio Rocco e ovviamente te, ripassiamo la parola a Sarade Rocco per la chiusura, però volevo la tua ultima pennellata. Grazie. Sei muto, non si sente, Cristina? Molto volentieri, proprio riprendendo quest'ultimo aspetto che hai citato, perché effettivamente alcune caratteristiche di leadership che generalmente sono più diffuse nei manager donne sono ritenute particolarmente adatte ancora di più in questo momento storico, quindi modelli di leadership più inclusivi e più solidali. ecco, la fondazione Centesimo Sanus di cui sono membro del comitato scientifico e che cosa ha fatto? Ha promosso un accordo con dodici Atenei nel mondo per istituire l'insegnamento di un corso sui nuovi modelli di leadership appunto più sostenibili. L'Ateneo Pilota in Italia di questa iniziativa è l'Università Cattolica, mi auguro naturalmente che poi molti altri Atenei prestigiosi come il Politecnico possono in qualche modo aderire a questa iniziativa.